Che prima hanno voluto, come vuole la filosofia mentale, rinunciare a piedi giro? Adesso non sono neanche... Adesso è una parte rimascherato perché il suo maestro ha deciso di andare a posto in posto in posto. Quando lui non mi parla tanto, che ne fa così? Oh, mi sa, queste... Oh, più dei cinque, è buono, tre di ripasso. E arrivano anche, arriva la musica incitosa del momento. La squadra dei ragazzi del judo sono pronti, anche il ragazzo mascherato fa segno di sì. Signor giudice? Tre, due, uno, via. Ed ecco, va lì, supermercati, che rende possibile ai ragazzi del judo di poter salire. Si allenano sugli scaffali ogni volta. Ci sono gli ultimi due sacchetti. Mi correggo, c'è solo un ultimo sacchetto. Se i ragazzi del judo ce la fanno a salire, il palo della cuccagna edizione 2010 si può arrestare. Ma uno è già strappato. Se qualcuno dice che ci sono due sacchetti, un sacchetto è già strappato. E quindi non si può conteggiare. E se qualcuno dice due sacchetti, ripeto... Non è strappato, quindi non è conteggiabile. E' forte, è forte. Finché i ragazzi del judo salgono con la notte... E' vero, sono rimasti due sacchetti, ma prima la giudice che aveva messo... Vai a Marco! Vai a Marco! Vai a Marco! Vai a Marco! Ecco, sì! Anche l'autoscontri sono un po' di loro secchetto! E' un po' di loro bene! E' un po' di che il tagadano si smonta e qua la Lucagna non cesta di continuare! Vichi gli autoscontri a noi!